Oggi prepariamo l'insalata in crosta. Ci servono farina di ceci, farina integrale di avena o altro tipo di farina integrale, yogurt di soia non zuccherato, succo di lime o di arancia, del pomodoro, olio extravergine di oliva, dell'acqua, un misto di verdure fresche di stagione e del sale marino integrale. Per prima cosa setacciamo le farine. 50 g di farina di ceci e 100 g di farina integrale di avena o anche di farro. Nel boccale del frullatore mettiamo 50 g di pomodoro, 40 g di olio e 20 g di acqua. Aggiungiamo un pizzico di sale. Ora frulliamo fino a rendere il tutto omogeneo. Uniamo alle farine la parte liquida appena frullata. Anche se rimangono dei piccoli pezzettini di buccia del pomodoro non è importante. Possiamo versare tutto insieme e mescoliamo con l'aiuto della forchetta. Quando le farine si saranno unite rovesciamo l'impasto sul nostro tagliere. Non dovremo lavorarlo troppo ma è giusto fare in modo che rimanga ben omogeneo. Prima di stendere l'impasto accendiamo il forno a 170 gradi in modalità statica. Procediamo a stendere l'impasto. Prendiamo un foglio di carta forno e versiamo qualche goccia di olio d'oliva. Lo stendiamo leggermente. Prendiamo il nostro impasto e con l'uso del mattarello cerchiamo di creare un disco di spessore abbastanza regolare. Prendiamo la nostra piccola teglia e anche questa la oliamo leggermente. Con l'aiuto del mattarello spostiamo l'impasto dalla carta forno alla teglia. Se la dimensione non è corretta non è importante perché è un impasto molto morbido e con i piccoli lembi in eccesso si può andare a tamponare dove abbiamo delle mancanze. Prima di infornarla incidiamo e creiamo già le nostre fette. Questo ci permetterà durante la cottura di avere già delle fette formate. L'impasto si ritira e si stacca. Se provassimo a tagliare questo impasto dopo cottura si sbriciolerebbe. Ora lo inforniamo a 170 gradi per circa 20 minuti. Nel frattempo laviamo e tagliamo le nostre verdure e prepariamo la salsa a base di yogurt di soia e lime in questo caso. Laviamo le verdure e con l'aiuto di un coltello e di un pelapatate creiamo delle striscioline. Questo piatto si presta alla massima creatività. È da consumarsi freddo quindi preferibilmente d'estate ma si può preparare in qualunque stagione con le verdure che il mercato offre. Condiamo leggermente le nostre verdure con un filo d'olio extravergine d'oliva e il condimento a piacere. Può essere dell'acidolato di umeboshi o dell'aceto. In attesa che la pasta si cuocia prepariamo la salsa allo yogurt di soia per nappare le nostre fette. In un contenitore mettiamo qualche cucchiaino di yogurt di soia. La quantità può essere scelta a piacere, io ho indicato un cucchiaino perfetta. A questo aggiungiamo il succo di lime. Possiamo scegliere anche un altro agrume, possiamo anche grattugiare un po' di zest, quindi la buccia dell'agrume o condirlo con quello che più ci piace, anche delle spezie, della curcuma. Mescoliamo brevemente. Una volta che l'impasto sarà pronto lo lasciamo a raffreddare nel forno con l'anta leggermente aperta. Sformiamo il nostro impasto, lo trasferiamo direttamente nel piatto di portata. Se le fette non sono completamente staccate lo possiamo fare in questo momento in maniera tale che i nostri ospiti si possano servire agevolmente. Nappiamo la base con lo yogurt di soia e possiamo procedere, dopo aver condito le nostre verdure, a passarle nella nostra crosta. Cerchiamo di disporle in maniera colorata, quindi in maniera tale che tutti i nostri ospiti abbiano modo di assaggiare tutte le verdure che abbiamo scelto. Se abbiamo la possibilità di trovare dei fiori eduli, li possiamo inserire nella nostra insalata. E questa è la nostra insalata in crosta.